Bene, adesso stiamo entrando nell'area della Valsabia dove sono iniziati i lavori per andare a restituire al parco gli alberi che le ruspe hanno tirato giù in questi giorni. Ecco, vediamo entrare tante persone e scavalcare questa rete per riappropriarsi del parco per andare appunto a piantare gli alberi che sono stati in questi giorni sradicati dalle ruspe.